Qui siamo davanti ad un capolavoro di risanamento fatto dagli attuali tre amministratori extraordine. Il punto è perché negli anni passati sono arrivati a questo livello di sonnolenza, di disinteresse, di pigrizia realizzativa, tant'è che, mi fa dire, meriterebbero quasi la cicuta. Oggi il dato fatto nuovo è che lo hanno risanato, lo hanno rimesso nella condizione di camminare, di poter contrattualizzare e derogare servizi. Oggi anche il bene immobiliare è nella condizione di essere usato da chiunque abbia interesse economico a usarlo. Insomma, c'è stata sua maestà la risanatezza. Noi abbiamo altre due grandi priorità da affrontare. Il consorzio industriale Chieti Pescara, che va subito concluso nel lavoro di amministrazione straordinaria e va riconiugato accanto ad Arap, poiché noi abbiamo bisogno di avere un'agenzia di attrazione e di investimenti. Anche lì 30 anni di imprecisioni di comportamento. E poi dichiareremo guerra alle inesattezze riguardanti il consorzio dell'interporto. L'interporto deve cessare di essere la più parte casamatta e deve diventare una infrastruttura per la logistica. Sicuramente sì, è stato compiuto in questo anno di attività un grande passo avanti. Siamo passati da una società in liquidazione a una società in bonus. Abbiamo nominato tre consiglieri di amministrazione assolutamente professionali che puntualmente hanno portato all'inizio di un risanamento importante. Partivamo da 8 milioni di euro di debito, siamo passati a 7, abbiamo regolarizzato i nostri rapporti sia con le banche, sia con i fornitori e soprattutto con l'erario. Da oggi hanno ripreso le attività con 9 persone a disposizione del centro agroalimentare. Si prevede per il futuro una serie di attività importanti per tutto il settore ortofrutticolo, in particolar modo una stretta alleanza con la GDO, quindi la grande distribuzione organizzata e le organizzazioni di produttori agricoli.